Era la cosa più bella che avessi mai letto. Io ricevo una chiamata di Peppino Amate, che all'epoca era un grandissimo produttore. Si tratta probabilmente del film più costoso prodotto in Italia fino a quel momento. Padre P ha detto sì, ha detto che la devo fare. La dolce vita per me era diventata una vera ossessione. Il film per adesso di Italia non esce. Riccioli intima d'amato di prendersi la responsabilità di questo disastro. Ma come fai a non vedere che questo è un capolavoro? E la Francia impazzì per la dolce vita. Grazie. 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 Grazie.